ciao a tutti amici ben ritrovati nel canale allora oggi abbiamo cinque biglietti da grattare uno da cinque uno da tre e tre da due allora incominciamo con il miliardario da due sempre richiesti con dedica allora il miliardario è richiesto da rossella vecchio ciao rossella questo è il miliardario nuovo piccolino vediamo se la linea l'aiuti a fare la prima vincita perché io ancora non ho vinto neanche due euro con questo tu ieri mi hai scritto non ho fatto tempo ancora a risponderti che hai vinto ieri con questo biglietto speriamo ti faccio i complimenti per le tue vincite ieri il venerdì 13 ti ha portato fortuna pure a te ok noi vediamo il sabato 14 cosa fa ok buona visione a tutti e buona visione a rossella va bene così dobbiamo prendere la moneta o no ce l'ho ecco allora vediamo con la nostra monetina romena che ci dice allora come funziona sappiamo tutti e ormai dobbiamo fare il trist in cominciamo la prima n ci dice una stella seconda n ferro di cavallo e poi abbiamo una moneta ok fino adesso tutto bene noi dobbiamo trovare tre in fila secondo stella e qui e già col ferro di cavallo e con l'euro non si può fare niente vediamo un po l'ingotto euro con l'euro niente finalmente rossella mi porti fortuna la prima volta che prendo un pregno è buono se non c'è bisogno che lo clattiamo ma lo clattiamo ugualmente tanto non ti porta niente ok vabbè comunque vediamo con il freno verticale cosa abbiamo preso due euro comunque abbiamo ripreso il biglietto non è molto però ci accontentiamo i gatti di nuovo sono i piccolini che mi passeggiano sul letto che io non voglio ci devono ancora educare vedete sono ancora piccoli noi devono imparare pure loro perché i miei gatti non saltano sulle parti io le dico bene i miei gatti loro c'hanno il loro posto c'hanno la loro cuccia c'hanno tutte le comodità che vogliono però no non il mio letto e non lo so se rossella volevi sapere il numero 37 serie 33 del biglietto vincente noi vediamo il secondo biglietto la serie sempre 33 numero 36 ok allora euro stella e ferro di cavallo e ora non si può fare niente vediamo un po vediamo stella e neanche con la stella facciamo il bonus ferro di cavallo no neanche con il bonus si può fare niente lo vediamo qua o niente possiamo fare niente no questo è importante ok ferro di cavallo e ferro di cavallo niente non abbiamo concluso niente qua non abbiamo un ok passiamo allo questo biglietto ok passiamo allo questo bigliettino sempre la stessa serie numero 38 vediamo un po euro 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 di cavallo e stella lingotto bonus abbiamo una possibilità del di trovare l'euro qua vediamo un po speriamo che non ci è una bella vincitina non ci resta che grattare niente di fatto no non ci ha dato niente no questo è anche perdente non vedo io vincitino non abbiamo fatto il twist bene passiamo ai numeri fortunati diciamo bene allora numeri fortunati richiesti da federico lampidelli ciao federico questo è il numero 18 serie 74 allora prima numero 32 eccolo qua guardiamo 53 eccolo qua segue 42 non vedo io un 42 51 e 50 non i di fanno recolo 33 eccolo 75 eccolo eccolo poi abbiamo 70 che non vedo 37 eccolo allora c'è visto il 56 per l'ultima colonna 56 e 59 per il momento 62 62 niente 28 non lo vedo 78 78 neanche 80 non c'è 69 eccolo qua ma non importa niente abbiamo ancora due numeri 34 34 questo che numero si è 34 ok l'ultimo numero 36 36 niente niente ti ha fatto credere ma non è vincente questo biglietto mi dispiace caro Francesco e niente di fatto allora passiamo alla nostra battaglia navale richiesta da maria rosaria luci ciao maria rosaria battaglia navale numero 14 e il numero 14 mi sembra che è proprio il numero che mi hai chiesto comunque dobbiamo chiudere poco a poco ok vediamo un po' che ci dice il tuo numero 14 vediamo un po' allora prima coordinata c2 tuffo in acqua b5 ok a6 a6 ok d7 anche ok f7 ok a4 tuffo in acqua tuffo in acqua c1 tuffo in acqua b6 tuffo in acqua a2 tuffo in acqua tuffo in acqua tuffo in acqua tu non abbiamo niente proviamo un po' con questo spignetto e niente mi dispiace me la rosaria ma non ci posso fare una vincita il prelietto non è vincente allora 5 e 3,8 9,10 allora su 14 euro di spesa oggi abbiamo fatto un recupero di 2 euro con il nuovo miliardario il resto è tutto verdetto carissimi va bene pazienza, comunque ringrazio tutti per la visione mi raccomando se vi piace del video pollice in su condividete e iscrivetevi intanto al mio canale che io sono sempre contento quando vedo che aumentano i miei iscritti bene ok allora un buon sabato a tutti ciao un bacio e un abbraccio alla Lina al prossimo video